Erano giorni che a casa, a scuola, con gli amici, con i miei studenti ci chiedevamo cosa avremmo potuto fare per scongiurare il pericolo della guerra e per stare accanto alla popolazione ucraina. Poi a inizio settimana ci siamo attivati e abbiamo organizzato questo momento di preghiera perché per scongiurare un pericolo come quello della guerra non ci sono altri strumenti. Quindi la diceva anche il Papa, ci si può opporre all'insensatezza della guerra soltanto con gli strumenti della fede, con i mezzi che ci offre Dio.